Musica Siamo già affrontati due volte, due pareggi Diciamo che questa volta un pareggio non servirebbe a nulla Né a una né all'altra, si andrebbe poi ai supplementari Quindi ci aspettiamo comunque una bella partita Ci sono dei cambi, non giocano né Franza né Guaita né Baggio Ah beh, turn over c'è Diciamo che comunque c'è l'eroe della giornata, cioè Facundo Lescano titolare Che comunque... È diventato un po' l'idolo È diventato l'idolo E quindi... Ma è sempre forza l'uomo Sempre forza l'uomo Tutto pronto E quindi se vuoi, se vuoi avere il tempo di questo meglio Cominino! Cominino! Se vuoi che mi fai veloce, io no! C'è tutti che vogliono E quindi se vuoi, se vuoi avere il tempo di questo meglio Non serve niente, non serve niente Quindi si puoi avere il tempo di questo meglio In time 3 europei Entrò tutto Così si può fare e mi sinto Mi hacia un tot Until Now Beccemente Sì è tutto Uno Che vuoi avere il tempo di questo meglio Per il tempo di questo meglio Lescano Si è tutto Dunque Se vuoi contemporary Soprá Quindi Il Pedro SINGING Caccio di rigore Genki se l'è procurato e sembra lui intenzionato a tirare alla sua ex squadra Vediamo come va Dai, dai, speriamo Rigore sbagliato col fantasma Sprecato, no, manco col fantasma, semplicemente Genki ha tirato Traversa linea, cioè la poteva mettere bassa, angolarla purtroppo è andata così Diciamo che Genki non è nella sua forma migliore No, no, non è riuscita di nuovo a segnare Dai, poi c'è l'animo dei difusi, forza con lei A fine primo tempo, primo tempo 0-0, diciamo deludente Non per le occasioni, ma per le occasioni sfregate Protaglista in negativo Genki, che ha sbagliato il rigore, come abbiamo detto E anche altre due occasioni Poi un'altra azione davanti al portiere E poi un controllo, diciamo, stupido, quasi elementare, sbagliato e potrà portare in porta poi le scavo Diciamo che oggi non è la sua giornata Diciamo che dopo il rigore è sbagliato, c'è un po' di tensione, un po' di preoccupazione Però vediamo se si farà nel secondo tempo Oppure se ci sarà subito un cambio, perché Guaita è pronto Guaita e Baggio Terracino si stanno riscaldando Sono carichi, quindi ci aggiorniamo nel secondo tempo Sempre forza potenza È finita È finita, però continuerà la sofferenza Continuerà la sofferenza perché c'è stambi supplementari Il secondo tempo ricco di non emozioni Per questi supplementari sono entrati lungo E poi è entrato quindi anche Coppola con Guaita E poi vabbè è entrato anche Baggio Diciamo che... È cambiato il modulo Diciamo un modulo più offensivo ovviamente Speriamo di fare bene Ci aggiorniamo nei supplementari Forza potenza Forza vai! Anche il primo tempo di supplementari è andato Sempre poche emozioni Equilibrio, resisto Qualche dribbling di lungo da notare E da fare i complimenti Da notare è anche Kayada che sta venendo la partita in curva Dato che è stato espulso nella scorsa partita Fino il 12 febbraio Vediamo nel secondo tempo di supplementari Forza potenza Dai, dai! Siamo ai calci di rigore Alla sinistra del portiere E fa la prezza Eccolo! Potete? Allora, eh! Eee! 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 Vittorio e rigore Sofferta ma l'abbiamo vinta Grande prezzo Il rigore è sbagliato di Genchi Ci siamo ripatti così Dai! Eee! 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 Eee!